Prosegue senza sosta la battaglia a favore della proposta di legge popolare sull'omicidio stradale voluta dall'Associazione Lorenzo Guarnieri e sostenuta dalla Sindaco di Firenze Matteo Renzi, oltre che da numerose altre associazioni. A distanza di un mese dall'iniziativa, la sottoscrizione va avanti spedita con oltre 22.000 firme certificate, complete degli estremi del documento d'identità dei firmatari, raccolte sul sito www.omicidiostradale.it. L'obiettivo della proposta naturalmente è quello di ridurre le morti sulle strade. Nel caso di lesioni gravi o morte provocate da un guidatore di un veicolo che si pone alla guida in condizioni di ebrezza, tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro e o sotto l'effetto della droga, la proposta di legge implica il passaggio del reato da omicidio colposo a omicidio stradale, l'incremento della pena da un minimo di 8 fino ad un massimo di 18 anni, l'arresto in flagranza di reato e infine l'ergastolo della patente, ovvero a chi uccide sotto effetto di alcol o droga, sarà tolta definitivamente la patente di guida dopo il primo omicidio stradale. La volontà del progetto di modifica è di stralciare dalla colpa l'omicidio stradale, riconducendolo ad una fattispecie che per scelta proprio ideologica, idealistica, se mi passate il termine viene ricondotta al 575 bis per mettere in evidenza come si ritenga che chi si mette alla guida dopo aver assunto alcol, dopo aver assunto droga, è perfettamente consapevole senza fare grandi dissertazioni sulla differenza tra dolo eventuale e colpa con previsione, del rischio che può causare la morte di altri e questo è inaccettabile e va punito in maniera autonoma.